Nuova missione Kilo 1-1 Questa volta vi manderemo in Cambogia a recuperare una missionaria catturata da un gruppo di terroristi Lo scopo della vostra missione sarà quello di infiltrarvi in territorio ostile eliminare tutte le minacce armate e recuperare viva la missionaria Voglio te e la tua squadra entro un'ora da adesso alla caverna dove riceverete maggiori informazioni per la missione Il capo di questo gruppo si chiama Marcos ricercato per traffico internazionale di droga Da fonti certe sappiamo che non sarà presente sul luogo di prigionia ma se dovesse incontrarlo si è autorizzato a eliminarlo Questo è il filmato più recente che abbiamo di lui Fate molta attenzione, è un tipo molto pericoloso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti